Un importante accordo alla presenza della Presidente della Repubblica Napolitano, ieri in visita a Catania, per dare vita al distretto del sud-est Sicilia. Un'iniziativa che coinvolge tre province, tre comune e tre camere di commercio. C'era anche il sindaco di Ragusa, Federico Piccitto, che, esprimendo la massima soddisfazione per la sottoscrizione del protocollo, ha parlato di occasione storica che apre una strada di sviluppo e crescita tra i territori del sud-est siciliano. Solo l'Unione, infatti, rileva Piccitto, consente il raggiungimento di quei risultati in termini di sviluppo che i nostri concittadini attendono da tempo e Ragusa, oggi, insieme a Catania e Siracusa, assume un ruolo di capofila propedeutico all'attivazione di progetti essenziali per la crescita del nostro territorio. Diverse le novità contenute nel documento, da cui la creazione di un comitato organizzativo per la gestione dell'iter amministrativo della pianificazione e per la vigilanza rispetto alle iniziative realizzate. La nostra città, spiega sempre il sindaco di Ragusa, riveste oggi un ruolo strategico in questo ambito, soprattutto dal punto di vista del necessario potenziamento infrastrutturale che passa dalla crescita dell'aeroporto di Comiso e dal porto di Pozzallo alla realizzazione del raddoppio della Ragusa-Catania, nonché della Siracusa-Gela. Un piano di mobilità che, secondo Piccitto, deve coinvolgere anche il potenziamento della rete ferroviaria, elemento centrale per uno sviluppo sostenibile dell'intero sud-est siciliano.